L'antichissima polifonia giorgiana, che a nostro gusto è una delle espressioni musicali di opere e trascendenti. Un dettaglio molto significativo della loro polifonia tradizionale è che è sempre a tre oci, che alla fine si uniscono in un solo tono, rappresentando così la Santissima Venta, tre persone in un Dio. Questa canzone, intitolata Shachar Galata, è per così dire l'inno religioso nazionale della Giorgia, ed era l'unica che poteva essere cantata praticamente durante l'occupazione sovietica, perché era considerata una canzone culturale piuttosto religiosa. In realtà, però, è doccia la Vergine Maria come fine ricordosa del Giardino dell'Edo. Nelle nostre missioni abbiamo notato che questa canzone ha una grazia speciale per la quale c'è un'integrazione. è una grazia speciale per la quale c'è un'integrazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.